Nei giorni scorsi è successa una cosa piuttosto interessante, cioè vale a dire che Gucci, una delle marche più importanti del mondo per quanto riguarda la moda, ha deciso di eliminare i fotografi. Cioè sì, ha mandato a modelle e modelli una scatola o più scatole contenenti gli outfit da indossare e poi ha detto scattati tu le foto. E questi sono più o meno i risultati, dovresti vederli qui in sovraimpressione di qua, forse ecco, forse di qui, perfetto. Dicevo, che cosa comporta questo? Innanzitutto ci avviamo verso chiaramente l'epoca del curator. Io l'ho già detto in varie occasioni, la figura del fotografo sta sparendo per quanto riguarda la parte tecnica, per quanto riguarda la parte di selezione dell'inquadratura, per quanto riguarda la parte di produzione dell'immagine. Sta sparendo perché? Perché ci sono strumenti perfettamente in grado di realizzare qualunque fotografia veramente molto bene. Per esempio questo telefono qua potrebbe fare tranquillamente un servizio fotografico stampabile, accettandone ovviamente le limitazioni. Oppure ci sono persone che hanno la capacità di improvvisarsi i fotografi. Ce ne sono tantissimi. Lasciamo stare i fotoamatori, che sono persone tra i quali magari mi posso anche io inserire, che conoscono bene la tecnica e sanno esattamente come funziona la fotografia. Ma ci sono persone che semplicemente hanno il buon occhio, utilizzano uno strumento di facile utilizzo con certi automatismi e il gioco più o meno è fatto. Cioè l'immagine è quella lì. Sì, si può inventare, si può decidere di utilizzare luci particolari, eccetera, ma ormai il look che si vede in giro non è che comprende tanto l'utilizzo di luci particolari. A partire da, se prendete un po' la new wave che c'è adesso anche su Instagram, eccetera, tutto fatto in luce naturale. Non c'è più nessuno che gira con i flash, non vedo più nessuno. Quindi sostanzialmente è facile realizzare delle fotografie. Quello che è più difficile è sceglierle dopo. E quindi appunto la figura del curator, la persona che date una scheda SD o CF Express o quello che è, la mette dentro un computer o riceve dei file e sceglie quali file utilizzare, quello che può essere l'editor, vagamente, è più importante di quella figura del fotografo. E questa campagna lo dimostra chiaramente. Io invito tutti quanti a ragionare su questo fatto perché stiamo andando verso un momento, un'epoca in cui la creatività del fotografo, inteso come la persona che crea il set, scatta l'immagine, la post produce e fa la delivery, sta tramontando, sta arrivando l'epoca del curator, cioè tantissime immagini, scegli quella che ti piace di più, quella che di più si confà al messaggio che vuoi mandare e utilizzi quella. Detto questo, nella mia breve esperienza, cioè non breve ma limitata esperienza di lavoro con modelle e modelli, io devo dire che ho incontrato tante, tante, tante persone in quel ambiente che hanno un occhio di gran lunga migliore rispetto a quello di tanti altri fotografi professionisti. Quindi, perché? Perché ci stanno tutto il giorno, il loro lavoro è quello di apparire davanti a un obiettivo e quindi avranno anche le più brave, i più bravi hanno anche studiato il modo per essere migliori davanti all'obiettivo e avranno anche capito quali sono i trucchi che usano i fotografi per farli apparire migliori, no? E quindi, cioè, alla fine, se tu hai uno strumento che ti consente di fare le cose facilmente, lo può fare chiunque. È come il bimbi, cioè tutti sono capaci di fare il risotto col bimbi, no? Butti dentro gli ingredienti e viene fuori risotto, anche decente. Poi ci sono gli chef, poi ci sono io che cucino un risotto allo zafferano che è la fine del mondo, ma poi dopo c'è tutto il resto e tutto il resto lo può fare chiunque.